Preoccupa la riclassificazione delle case di riposo prevista dalla Regione. Il tema è approdato alla prima commissione del Consiglio Comunale con un'interrogazione del Consigliere Rescigno e alle preoccupazioni espresse da più parti ha risposto l'assessore regionale alla Sanità Telesca. Abbiamo l'obiettivo di dare una qualità minima a tutti coloro che entrano in una struttura protetta, in una struttura per anziani. Questo comporta che molti si debbano adeguare. Le preoccupazioni sono in questa tempistica. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questo processo graduale e per consentire a tutti quelli che possono farlo di mettersi in regola con i nuovi standard, avendo anche una certa consapevolezza che per molte con il tempo questa cosa sia possibile. Però chi non può fornire un servizio di qualità evidentemente dovrà trovare formule alternative. Tanti i motivi che hanno richiesto l'audizione in aula dell'assessore regionale. Tra questi anche la preoccupazione di un possibile aumento delle rette e delle case di riposo. In effetti questa delibera nasce dalla preoccupazione di alcuni imprenditori locali per quanto concerne le case di riposo. Questa delibera allarma appunto perché non ci sono i requisiti essenziali e soprattutto per poterli applicare in certe case di riposo o residenze polifunzionali. Per i servizi non ci sono problemi. Bisogna adeguarsi, bisogna migliorare la qualità. Il problema strutturale è che le case di riposo qui a Trieste, la gran parte, sono presso appartamenti quindi di difficili lavori da poter eseguire. Il problema sono quindi mega investimenti che si prevedono da parte delle strutture private. Questi mega investimenti andranno a influire sulle rette. La paura è proprio questa, che saliranno le rette per potersi adeguare a quanto la regione richiede sotto l'aspetto strutturale.